Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Un caro saluto veramente a tutti i nuovi iscritti che aiutano il canale a crescere e noi oggi con questo video ritorniamo ad occuparci del campionato degli Stati Uniti perché con i turni che passano i giganti iniziano a scontarsi tra loro. Allora nel video di oggi una super partita veramente, quella tra Hans Niemann e Levon Aronian. Niemann come sappiamo è un giovane ambizioso che vuole crescere e ha dichiarato più volte di voler diventare un numero uno se non proprio il numero uno. Aronian un numero uno lo è da tanti tanti anni e non è facile per nessuno prendergli punti. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare tutti i miei abbonati storici che continuano a rinnovare da anni ormai ai quali si aggiungano Simone ed Occhi in Viaggio, due nuovi abbonati alle mie lezioni. Che è una libreria che trovate qui sul canale, una libreria che cresce mese dopo mese perché naturalmente vengono aggiunte sempre nuove lezioni. Al momento ci sono più di 28 ore di video ai quali potete accedere con soli 2,99€ al mese quindi vi aspetto sempre più numerosi. Fatemi anche ringraziare di cuore Emiliano per un altro graditissimo SuperTanks. Adesso like al video e partiamo subito perché in questa partita Hans Niemann di bianco apre con E4 e allora Aronian risponde con C5, la difesa siciliana arriva a cavallo in F3 e qui E6. Il setup che mi piace tantissimo, che può portare alla siciliana Taimanov o alla siciliana Kahn. E allora Niemann non entra nella siciliana aperta con D4, gioca C3 e praticamente siamo nell'Alapin. Con questa C3 il bianco vuole spingere due in D4 e allora Aronian spinge subito in D5. Il cambio dei pedoni e la mossa più giocata invece arriva E5. Dunque, guardate, se il nero giocasse cavallo in C6, il bianco con D4 entra in una francese di spinta. Ma Aronian D4 non gliela vuol far giocare perché si vede che non ha seguito le mie lezioni. E allora gioca lui D4. Alfiere in D3, mossa più giocata, arriva D3. Questa D3 è buona. Cosa fa però? Impedirà in futuro all'Alfiere di andare sulla sua diagonale più forte. E allora cavallo in C6, mossa più giocata. Invece Aronian sceglie cavallo in E7. Pensate, nella pratica è una linea poco giocata che dà i migliori risultati al nero. E allora G3, perché naturalmente questo alfiere è bloccato. Alfiere in D7, mossa più giocata. Cavallo in C6 mi pare la migliore. E invece arriva la novità di Aronian, consigliata anche dal computer. D per C3. E allora Niman naturalmente riprende di pedone verso il centro. B per C3, arriva Alfiere in D7. Alfiere in fianchetto in G2. Guardate questo alfiere che paura che fa su questa diagonale lunga. E qui Alfiere in B5. Secondo attacco sul pedone. E qui come si difende? O tornando indietro con l'Alfiere, ma sarebbe veramente una perdita di tempo. Oppure come ha fatto Niman con C4. L'Alfiere sotto attacco si contrappone a quello in fianchetto del bianco. Quindi Alfiere in C6. Arrocco corto per Niman. Inutile stare ad attaccare troppo questo pedone. Che è troppo semplice da continuare a difendere. E guardate, senza l'Alfiere che può prendere questa diagonale. Allora l'idea giusta è Cavallo in F5. Arriva infatti Cavallo in F5. Alfiere in B2. Alfiere in E7 perché anche il nero in qualche modo deve sviluppare. Donna in E2. Il nero che non ha ancora arroccato. può veramente scegliere di arroccare lungo. Però, secondo me, va preparata ancora bene. Tant'è che Aronian gioca H5. Cosa fa? Impedisce intanto G4 del bianco a scacciare questo cavallo. e potrebbe in futuro iniziare l'attacco sul lato di Re. E allora Niman connette le torri con Cavallo in B che va in D2. Donna in C7 mi sembra ottima. Anche perché mantiene e addirittura aumenta la possibilità di arrocco lungo. arriva invece un'altra mossa ottima H4. Cavallo in E4. H per G3. E qui, interessantissima, la ricattura di Niman. Qui tutti si penserebbe al volo di ricatturare col pedone H. Che comunque è una ricattura giocabile. Invece Niman, per non aprire la colonna H e per liberare la colonna F alla sua torre, riprende col pedone F che è la ricattura migliore. Cosa è successo però? Guardate, Aronian ha due isole pedonali 1 e 2 contro l'E3. 1, 2 e 3 di Niman. Attenzione sul finale. E allora Aronian semplifica. Alfiere per Cavallo in E4. La donna ricattura. Cavallo in C6. G4. Attacca il Cavallo. Secondo me questo è il momento critico di tutta la partita. Perché cosa deve fare questo Cavallo? Certo, può anche tornare in H6. L'idea migliore è Cavallo in H4 per cambiare i Cavalli. Questa è una manovra veramente della difesa francese. Oltretutto, vedete, il Cavallo supportato benissimo dalla batteria Alfiere e Donna. E invece arriva, secondo me, il grave errore di Aronian. Cavallo in F che va in D4. E allora guardate che succede. Alfiere per Cavallo. Il Pedone C ricattura. Torre in A che va in B1. E questo pone serissimi problemi al Nero. Perché si vorrebbe naturalmente poter giocare B6 ma il Pedone sta proteggendo il Cavallo sotto l'attacco della Donna. e allora Levone è costretto a giocare Donna in C7. Attenzione, si è tolta è stato tolto un difensore al Pedone centrale del Nero ma questo Pedone è intoccabile. Come è mai intoccabile? Guardate, si trova su una linea di attacco che si aprirebbe in maniera terribile tant'è che Nima non gioca il Cavallo per D4. Basta giocare Alfiere in C5 e si vince un pezzo per un Pedone. e allora arriva G5 tanto questo sta lì arriva G5 G6 per evitare che il Pedone faccia ulteriori passi e qui H4 Alfiere in B4 Aronian ha visto che il Pedone sotto attacco può diventare un punto di appoggio forte per il suo Alfiere. Allora arriva Alfiere in B4 Cavallo in H2 guardate che paura che fa questo Cavallo il Cavallo del Nero non si può muovere arriva Arrocco Lungo per il Nero Torre in B3 e Niman inizia il raddoppio delle Torri sulla colonna semiaperta B una manovra fortissima. Alfiere in D2 la seconda Torre in B1 minaccia la terribile cattura in B7 qui non c'è solo il discorso di vincere Donna e Pedone per due Torri ma qui cade sicuramente perché il Cavallo spostandosi ha creato la batteria Alfiere-Donna qui cade un pezzo pieno oltre a Donna e Pedone e allora arriva l'intermedia Alfiere in E3 con scacco Re in F1 pensate l'unico modo per evitare il disastro di Torre che cattura in B7 è giocare B6 perdere un pezzo e allora Niman vince il Cavallo Donna per Cavallo in C6 Donna per Donna l'Alfiere ricattura il Nero in questa posizione non abbandona soltanto perché i Pedoni del Bianco come abbiamo detto prima sono particolarmente deboli allora con Torre per Pedone in H4 Aronian ne cattura 1 Cavallo sotto attacco si porta in F3 Torre in G4 e attenzione l'entrata in gioco della seconda Torre sulla colonna H è particolarmente forte allora il Bianco seppur con vantaggio di materiale deve giocare in modo molto preciso guardate Niman come si muove Torre in E1 Torre in H8 cede la qualità Torre per Alfiere mossa migliore il Pedone di ricattura in E3 Re in E2 questo Pedone cadrà sicuramente ma non è questo il fatto Torre in H3 e vedete qui prima o poi quando il Re eliminerà il forte pedone oppure il fastidioso pedone passato la Torre inchioderà il cavallo che non difende più il pedone in G5 anche il Nero avrà il suo pedone passato allora arriva Alfiere in E4 che è più precisa della cattura immediata Torre in G2 con scacco stavolta il Re sotto attacco deve catturare in E3 auto inchioda il cavallo Torre che cattura in G5 un altro pedone sotto attacco Re in F2 e allora il cavallo stavolta lo protegge il pedone Torre in G4 mi piace particolarmente A4 arriva un'altra idea originale ecco Neiman è veramente un giocatore che ha delle idee originali io avrei giocato A4 e poi avrei rimesso in gioco la Torre da un'altra parte questa Torre in A3 attacca il pedone Re in B8 Torre in A6 G5 il pedone passato di Aronian avanza e adesso siamo a un primo Quizzino secondo me potete migliorare l'idea di Neiman allora il Quizzino è questo qui lo giochereste C5 pensateci un attimo e da voi la parola ritorniamo a noi C5 mi pare particolarmente carina come mai perché naturalmente se B5 che succede Torre in A5 questo va ancora più avanti poi lo scacco si vince un pedone pieno dopo C5 il nero è costretto a catturare B per C5 ma arriva Torre in C6 si è liberata la Torre Torre in H1 Torre che cattura in C5 Torre in B1 la Torre in C2 il cavallo si sposta guardate che posizione fantastica per il bianco ma Neiman ha tutta altre idee e per questo che probabilmente ha messo la Torre sulla colonna A aveva già in mente di giocare cavallo in D4 è una manovra se non la più precisa ma sicuramente interessante e nella pratica comunque piuttosto forte ora che succede è vero che il cavallo non controlla più H2 ma lo scacco non vince il pedone perché c'è sempre la Torre e qui che cosa minaccia Neiman? Minaccia di dare lui uno scacco entrare di Torre in A7 Aronian però risponde alla grande guardate cosa fa Torre in F4 con scacco Re in E2 Torre in H2 con scacco Re in E3 Torre in H3 con scacco Re in D2 di nuovo uno scacco da H2 e qui o si ripetano le mosse o bisogna cambiare Re in C3 e qui Torre per Alfieri in E4 il pedone di ricattura arriva a G4 il pedone passato sempre più avanzato il bianco deve stare particolarmente attento tant'è che Neiman ritorna indietro con Re in D3 Torre in F2 secondo me è sbagliata come mai? perché vedete su questa colonna ci sono poche case a disposizione della Torre quindi il Re non può essere tagliato fuori dalla Torre il pedone non può avanzare tranquillamente il Re va ad impattare con Re in E3 non solo la Torre ma anche l'unica casa che gli era rimasta disponibile e allora Torre in F1 ma arriva anche Re in E2 Re in D3 attacca il pedone Torre in A3 è vero che Aronian cattura il pedone con scacco ma era un pedone doppiato il Re si sposta protegge il cavallo attacca la Torre Torre in E1 cavallo in C2 il pedone passato non può più avanzare anche perché guardate il cavallo controlla anche la casa G1 e allora il nero migliora il Re Re in B7 Re in D2 attacca la Torre Torre in A1 è chiaro che il bianco sta vincendo la partita ma c'è una continuazione un'idea in una mossa singola secondo me straordinaria a disposizione del bianco Niman l'ha vista voi la vedete? allora mettete pure in pausa e da voi la parola ritorniamo subito a noi l'obiettivo e fare fuori eliminare il pedone passato e poi muovere i propri pezzi per andare a vincere guardate Niman cavallo in C1 cosa fa? blocca per un paio di mosse la Torre e libera dalla difesa del pedone A2 la sua Torre a tutto il tempo per eliminare il pedone in G del nero e allora il povero Aronian tenta di liberare la Torre Torre in B1 Torre in G3 Torre in B2 con scacco ma tanto il cavallo protegge Re in C3 attacca la Torre Torre in F2 e Niman elimina il pedone passato Torre che cattura in G4 e allora però guardate Aronian sono posizioni disperate ma ci insegnano però tante cose come può vincere Aronian? di sicuro non avanzando il pedone arretrato perché questo viene subito catturato c'è il 2 contro 1 in qualche maniera sul lato di Donna e allora arriva A5 A4 Torre in F1 attacca il cavallo cavallo in D3 Torre in A1 ecco il fatto vuole creare un nuovo pedone passato stavolta lontano sul lato di Donna Torre in F4 Torre in A3 con scacco Re in D4 Aronian ha creato il nuovo pedone passato Torre che cattura in A4 ma qui purtroppo la cattura di Torre in F7 arriva con scacco Re in C8 cavallo in F4 eccolo il pedone che Neiman vuol far passare arriva B5 pedone inchiodato e allora cavallo che cattura in E6 questo è il pedone che deve vincere la partita Torre che cattura in C4 con scacco Re in D5 e Aronian avanza il suo pedone passato in A4 Torre in A7 non fa avanzare i pedoni e allora Torre in C1 cavallo in D4 dopo 63 mosse Aronian abbandona non c'è modo di fermare questo pedone ve lo faccio vedere velocemente se Re in B8 attaccando la Torre la Torre si sposta a cosa serviva per far avanzare il suo pedone ma questo si muove in E6 A2 E7 e bisogna bloccarlo perché se no questo gli dà scacco matto promuovendo il matto Torre in E1 e il cavallo si mette davanti e qui che succede? anche se questo promuove non promuove con scacco e quindi la promozione del bianco diventa scacco matto Re in B7 per scappare il pedone va a donna scacco di scoperta Re in B6 i classici scacchi da dietro omicidiali donna in D8 con scacco Re in A6 c'è anche il matto in D2 con la semplice donna in A8 con scacco ancora più bello cavallo in C5 scacco matto e allora grandissima partita di Neiman grande preparazione in apertura ma anche tante belle mosse sulle quali secondo me non ci può essere nessuna ombra e allora dopo sette turni guardate la classifica Neiman sembra davvero uno dei candidati alla vittoria finale si trova a solo mezzo punto dal leader solitario Fabiano Caruana e quindi noi continueremo a seguire questo grandissimo campionato degli Stati Uniti che tutti gli anni mi appassiona sempre con grandissime partite grandissime vittorie grazie naturalmente per l'ascolto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi naturalmente ci vediamo spero domani se no lunedì con un nuovo video a presto grazie a tutti